Poi l'appoggio fuori, il destro tentato, il pallone diventa buono per il sinistro e la rete del vantaggio della Roma che passa al terzo minuto Lascia sinistra tra gli bling, poi il pallone ancora buono, il velo, il destro, deviazione e il pallone in rete, raddoppiano i giallorossi questa volta con Luca Italiano Ancora i giallorossi in attacco con Laruffa che mette al centro, poi il destro, meraviglioso, scagliato da Luca Italiano Per poco non trova l'incrocio dei pali, fuori, ancora Edoardo Renelli, pallone al centro poi Cristian Rossi, mezzo a tre, prova a liberare il Mancino e supera il portiere accorciando le distanze 1-2 il punteggio, fa la finta di Laruffa che può andare poi col destro a servire in area di rigore la finta, il sinistro, il terzo gol della Roma firmato da Pietro Rante da Rossi che prova ancora col sinistro, poi il destro invece in girata, splendido da parte di Razvan che però non inquadra lo specchio della porta uno in tanti, la battuta di Rante, il pallone che arriva, colpo di testa e il poker calato dalla Roma di Ferretti, il gol di Simone Cassetti per il 4-1 molto bene De Vellis, poi ancora Luan, la sposta Luan, ecco Rida, area di rigore per Rida quinto gol della Roma, l'ottavo in campionato per Rida, 5-1 ma torniamo alla diretta, c'è Renelli, muro giallorosso, va Renelli, alto il cross intanto arriva, il colpo di testa, Rida firma la doppietta per il sesto gol giallorosso Dico Lucia a togliere tutti i dubbi alla difesa giallorossa la battuta di Rossi, è uno schema per Amorosino, salvataggio miracoloso il rischio del direttore di gara, la rincorsa, il destro che arriva e c'è la rete del Frosinone che accorcia ancora le distanze con Simone Morra, 2-6 Rosino attaccato da Federici, poi anche da Rida riesce a recuperare palla da Roma, Federici per poco non trova la porta il rischio profondo in zona Morra riesce a controllare il numero 8 poi cerca di resistere all'avversario, il pallone è fuori ma non c'è, più tempo, cala il sipario alla stella azzurra vince e convince la Roma di Massimiliano Ferretti che si impone 6-2 contro il Frosinone sale a quota 23 punti in classifica non c'è, più tempo, cala il rischio